Quindi il discorso è questo, Adrien Rabiot quest'estate rifiuta un rinnovo di 7,5 milioni di euro stagionali dalla Juventus per andare a giocare in Premier League, quindi decidi di andarsene dalla Juventus, di non diventare una bandiera bianconera per andare nel campionato più importante al mondo. Il Manchester United sembra dargli 10 milioni all'anno, però poi non se ne fa più niente, allora spera di andare in Spagna, in una delle grandi spagnole, ma anche lì non se ne fa più niente. Sembra andare al Milan, ma il Milan rifiuta di dargli così tanti soldi, perché lui vuole minimo una decina di milioni all'anno. Rifiuta di andare a Turchia, rifiuta di andare in Arabia e adesso l'Olympique Marsiglia ha quasi chiuso per Adrien Rabiot. La mamma prenderà circa 10 milioni alla firma ed Adrien sembra 6. È stata la scelta giusta per il calciatore francese o ha fatto una cazzata incredibile?